Un tuffo nel mondo del fumetto, protagonisti personaggi mitici come i detective Dylan Dogg e Martin Mister, il ranger Tex Wheeler e il genio del crimine Diabolic. C'è tutto questo a Capricomics 2013, seconda edizione della rassegna organizzata dall'assessorato Cultura e Turismo del Comune con l'associazione culturale Arcadia. In mostra alle tavole di Bruno Brindisi, disegnatore che ha firmato albi e copertine di Dylan Dogg. Questo signore qua si chiama Dylan Dogg ed è il personaggio di maggior successo degli ultimi vent'anni, venticinque. Lo conoscono tutti, ma c'è un personaggio che forse lo batte, anzi sicuramente lo batte, che è Tex. Tex Wheeler, ultrasessantennale bandiera della casa editrice Bonelli e del fumetto italiano. Io ho avuto anche la fortuna e l'onore di disegnare Tex. È l'occasione per ammirare le tavole originali, ascoltare dall'autore aneddoti e retroscena sui personaggi dei suoi fumetti, ma anche cimentarsi con il disegno. Brindisi ha tenuto workshop seminario nel quale ha spiegato segreti e trucchi del mestiere ai partecipanti, aspiranti fumettisti compresi. Questo è un lavoro che si fa a matita. Normalmente io non disegno mai su un foglio definitivo. In un momento di crisi di vendita e di lettori, il disegnatore difende la lettura di un fumetto come momento intimo che stimola la riflessione e coinvolge più di un videogame. Non a caso gli appassionati crescono in numero e qualità.